Mi complace annunziare ora che la sede della prossima giornata mondiale della juventud nel 2013 sarà Rio de Janeiro. Il agitarse di banderati brasiliani rubrica con gran alborozo la decisione del Papa. Sarà in Rio de Janeiro, in Brasil, il paese del mondo con i più catolici, come affirma orgoglioso questo brasiliano. Il Brasil è il paese più catolici del mondo, quindi ci siamo aspettati a tutti e di braccia aberti con l'amore di Cristo nel Rio de Janeiro per accogli a tutti nella prossima giornata del mondo della juventud. Brasil! Brasil! Per molti peregrini arriva anche il momento di despedirsi di Madrid. Llevaranno il mensaggio del Papa fino alle ultime rinconi del mondo. Tutti ciò che abbiamo appena rinconi da nostra nuova, per imparare le nostre nuove cose e altre cose. Perché molte persone pensano che noi cattolici siamo sbagliati, quindi ciò 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 ciò. Procura vivere più quello che è nostra fede, particolare in sicurezza di una meida, nelle celebrazze eucaristiche, là in nostri locale e procura diffondere un bel evangelio. Mi ho comprometto a llevar a Dio adonde haga falta, a evangelizzare con valentia e a dar testimonio con la mia vita di che Cristo non quita nada, lo da tutto. Imágenes come queste parecen un anticipo dei frutti che in i cinque continenti il Espíritu Santo regalara a la Iglesia Universal. L'Ostrazione potremo vedere, ancora più abundanti, se Dio vuole, in la prossima parada, Rio de Janeiro 2013. Brasil! Per i miei , abbiamo vivuto una aventura juntos, grazie a tutti! Grazie a tutti.